Gentili telespettatori, buona giornata. Silvio Berlusconi, intervistato, dice che è rammaricato perché Giorgia Meloni ha rinunciato a far valere le idee, i programmi, le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia all'interno dell'azione di governo. È una scelta, dice Berlusconi, diversa dalla nostra, una scelta che rispetto e che non ci impedirà di tornare a governare insieme. Quanto alla Lega abbiamo identità e culture politiche distinte ma collaboriamo molto bene al governo e in Parlamento per caratterizzare l'operato della maggioranza sulla base delle nostre idee e dei nostri programmi. Lui si rammarica che Giorgia Meloni non è entrata nel governo a far valere le sue idee. In realtà sono scelte politiche, lui, Berlusconi e Salvini hanno deciso di entrare nel governo per fermare la sinistra, Giorgia Meloni ha deciso di rimanere all'opposizione. Da quello che si nota è che alla fine il governo è a guida a Draghi, nel senso che decide lui. I partiti contano molto ma molto poco. Alla fine avete visto la Lega a volte non vota in consiglio dei ministri ma poi alla fine tra la fiducia che mette Draghi o la minaccia di andarsene far cadere il governo, alla fine tutti i partiti, Lega compresa, votano all'unanimità per quello che decide Draghi. Quindi oggi dire che Berlusconi è rammaricato, che Giorgia Meloni non è nel governo a far valere le sue idee, insomma, è un'affermazione che lascia il tempo che trova. E quanto la Lega dice abbiamo identità, culture politiche distinte ma collaboriamo molto bene. Non sta parlando di nessuna fusione, non sta parlando di nessuna Forza Lega. Il fatto è che probabilmente è Salvini che continua a girargli intorno perché una volta Berlusconi aveva paventato questa idea di fare una sorta di fusione ma era in funzione della sua salita al Quirinale. Lui saliva al Quirinale e praticamente regalava il partito Forza Italia a Berlusconi facendo una sorta di fusione dove lui diventava Berlusconi il presidente onorario e Berlusconi e Salvini il segretario. Ma poi al Quirinale non c'è andato e non ha nessuna intenzione probabilmente di regalare il partito a Salvini. Ma Salvini ancora ci crede e la vede l'unica possibilità per tornare come primo partito davanti a Giorgia Meloni. Ma da questa intervista sembrerebbe che Berlusconi stia parlando di due partiti realmente distinti. Aggiunge che l'obiettivo del centrodestra è quello di tornare al governo del Paese quando alle prossime elezioni si tornerà alla normale alternativa tra centrodestra e centrosinistra. Tutto questo dice senza buttare al vento la buona esperienza del governo Draghi, afferma Berlusconi nell'intervista rilasciata. Perché tutto questo possa avvenire è assolutamente necessario, dice Berlusconi, che la componente centrista, liberale, cristiana che noi rappresentiamo del centrodestra sia forte e determinante. Non solo dal punto di vista dei numeri ma da quello politico. Perché solo con le nostre idee e i nostri contenuti l'Italia può andare avanti, può essere credibile in Europa e nel mondo. Berlusconi praticamente sta dicendo che senza di lui l'Italia politicamente non esiste. E neanche il centrodestra. Senza lui la componente liberale, cristiana, come se gli altri due partiti fossero dei tremendi estremisti incapaci di poter governare da soli. Diciamo che non sono proprio le premesse di un buon governo, quello dove uno dei partiti dice senza di noi gli altri due sono solo degli estremisti. questo poi lui lo ha ribadito parecchie volte anche sulla capacità di governo di Salvini e Meloni. Quante volte nelle interviste ha detto a quei due lì ma figuriamoci a governare. Ha sempre sottovalutato, sottostimato e dato dei giudizi negativi su quei due là. Io ribadisco che nel centrodestra tutta questa rivalità e questa invidia assolutamente non funziona. Ammesso che un centrodestra esista ancora perché Giorgia Meloni diceva che stava aspettando comunque che questi due signori chiarissero la loro posizione. Soprattutto Salvini che è sparito dal giorno prima delle elezioni di Mattarella non si è fatto più sentire con Giorgia Meloni. Dopo che gli aveva detto sto venendo su da te in ufficio che parliamo, da lì in poi Giorgia Meloni non l'ha mai più sentito né visto. Ovviamente non sa con che faccia presentarsi da Giorgia Meloni, Salvini. Ecco abbiamo un ex capo del centrodestra Berlusconi che sogna ancora di essere il capo, si crede ancora al capo. Abbiamo a Salvini anche lui un ex capo del centrodestra, adesso secondo partito che sogna di fare ancora il capo. E c'è Giorgia Meloni che è diventata con Fratelli d'Italia primo partito e in questo centrodestra dove tutti e tre erano e sono leader, con questo modo di pensare realmente è difficile andare avanti. Per quanto riguarda invece, questo però ve lo racconto in un altro video sulle telefonate tra Berlusconi e Putin, questo ve lo racconto nel video successivo. Intanto io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di sabato. Oggi ci sono veramente poche notizie come spesso accade durante i fine settimana, però comunque ho trovato un po' di notizie da raccontarvi. Se volete comunque seguirmi nelle prossime ore, programmo dei video ricordatevi che nella community ci sono dei sondaggi, quali poter partecipare e commentare. Non sempre faccio tempo a mettere dei sondaggi, però quando ho qualche minuto metto dei sondaggi, così per passare un po' di tempo i sondaggi non hanno nessun'altra finalità che quella di passare un po' di tempo sul canale. E poi c'è anche l'altro canale qui su YouTube che si chiama Teleitalia Seconda Rete, dove lì trovate video di notizie, politica e fai da te. Poi questi video di questi due canali vengono condivisi sulla pagina che si chiama Teleitalia. Pagina Teleitalia che c'è su Facebook, in modo che lì se vi sono interessati i video li possiate condividere con chi volete. Grazie nuovamente, se siete interessati quindi fra una ventina di minuti un altro video qui sul canale. Arrivederci e grazie.